Le novità in una festa religiosa diventano motivo di intimidazione per un giovane parroco. È successo a Pozzillo, frazione di Acireale, dove a don Giuseppe Cicala è stata recapitata una bottiglia con liquido infiammabile. Un avvertimento, secondo il religioso, per le modifiche apportate alla festa della patrona della borgata marinara, Santa Margherita. Il sacerdote, da pochi anni alla guida della comunità, ha infatti diviso il cerimoniale dei festeggiamenti, da sempre svoltosi in un'unica giornata, in due appuntamenti. Una scelta non condivisa da tutti. Perdonare, perdonare autori di gesti di qualche persona facinorosa non è certo così difficile. Si perdonano altri tipi di cattiveria, ma questi sono piccoli scherzi. E anche se non lo fossero, mi piace pensare che questo è il cristianesimo. Siamo santi, vorremmo essere santi, come dice Davide Maria Turoldo, non da immaginetta, ma da uomini di ogni giorno, santi degli ultimi giorni, capaci di infastidire le realtà normali e così facendo iniziare a scardinare tutto quello che non è autenticamente bella e autentica notizia di Dio.